Ciao, sono Giari, una ragazza del Nicaragua che ha scelto di fare il servizio civile alla Croce d'Oro Charvoraska, una delle tante associazioni di Ampas. Nonostante l'emergenza del Covid-19, ho deciso di non fermarmi e continuare ad aiutare a tutte quelle persone che hanno bisogno e rimanere insieme a tutti i miei colleghi che sono ormai la mia grande famiglia. Noi stiamo continuando a fare i servizi di emergenza, di trasporto e a consegnare i farmaci e le spese a tutte quelle persone che sono a casa. Noi ci siamo, voi che potete rimanete a casa.